Allora, Calabro, veloce che siamo in votazione, prego. Bene, la votazione è chiusa. Favorevoli, 374. Contrari, 11. La Camera approva. Allora, siamo adesso all'articolo 7 e le chiederei il parere sull'unico emendamento, ma anche su quello aggiuntivo. Grazie. Sì, Presidente, invito a ritiro il parere contrario su tutti e due gli emendamenti. Sì, il Governo. Conforme al relatore, prendiamo gli architetticoli. Va bene, grazie. Allora, 7.1. La deputata Martelli chiede di intervenire. Prego, deputata. Grazie, signora Presidente. Posto che voteremo a favore di questo provvedimento, volevo segnalare questo emendamento perché oggi è la giornata europea a contrasto del traffico degli esseri umani della tratta e con questo emendamento chiediamo appunto di immaginare dei finanziamenti dedicati proprio per favorire l'emersione e i programmi di protezione a favore delle vittime di tratta che come sappiamo, proprio perché il fenomeno è legato all'immigrazione, quindi allo sfruttamento dell'immigrazione, in Italia sta assumendo una dimensione assolutamente preoccupante che riguarda lo sfruttamento lavorativo, soprattutto in agricoltura, oltre che altri ambiti, quali l'accattonaggio e lo sfruttamento sessuale. La ringrazio, deputata Martelli. Allora, nessun altro chiede di intervenire, quindi metto in votazione il 7.1 col parere contrario di Commissione-Governo e Quinta Commissione. Dichiaro aperta la votazione.